Guarda, io ho avuto il vantaggio di essere nato povero in una famiglia di dieci figli, padre morto, mamma maestra, 60 mila lire al mese, eravamo viva di dieci più la mamma. E allora tutti già abbiamo dovuto incominciare a lavorare fin da piccoli. Fin da piccoli. Io poi ero destinato a fare il metallo meccanico fine perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Al punto tardi, è arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo da solo a portare 5 anni di ginnasio più 3 di liceo, mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria perché non capivo bene come funzionava e mi sono presentato da solo agli esami di maturità. A privatista? Sì, ma senza una scuola alle spalle. Da solo. E lì cos'è successo? E lì è successo. Ho preso 10 filosofie, 10 storie, il mio tema è stato pubblicato sulla gazzetta Laresina. C'è un successo spaventoso. E allora ho cominciato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno strato di povertà perché c'è gente che nasce a professore universitario già in culla. Lui invece, io non sono nato in culla a professore universitario. Ciao. Ciao. Ciao.